che vale la nostra rubrica dedicata agli uomini e alle donne che valgono che affrontano piccole grandi sfide della vita come oggi c'è una giovane donna che potremmo dire vale doppio non vogliamo soprire perché allora andiamo a seguir e allora vediamo la senza nuca senza casco ecco la sorridente Raffaele Sommaschini benvenuta benvenuta pilota alla Milarei ovviamente pensate dieci giorni fa ha vinto con una gara di anticipo il campionato d'italiano femminile di rally e ci ha portato la coppa eccola qua se la regia ce l'è in quadra insomma è conquistato il podio gareggiando anche contro una matologia che limita il tuo respiro per questo dicevamo anche una vittoria che vale doppio la fibrocistica la fibrocistica è una malattia genetica che colpisce gli organi interni e per questo motivo è invisibile e si fa fatica sia a spiegare che cos'è sia a proprio a far capire quella che è la nostra realtà perché dietro a tanti sorrisi e un bel aspetto ci sono tante ore di fila della via respiratoria proprio perché questa malattia colpisce i polmoni come primo organo i quali sono danneggiati da delle infezioni polmonari e quindi portano progressivamente all'impossibilità di respirare andiamo indietro nel tempo questa malattia ti viene diagnosticata quando sei piccola piccola? si alla nascita perché ho avuto la fortuna di nascere in una città in un ospedale che aveva già lo screening neonatale e quindi subito a 30 giorni i miei genitori sono stati contattati dall'ospedale dicendo che c'erano degli esami da rifare e quindi subito a 30 giorni dalla mia nascita ripito fibrocistica e da lì praticamente da quel momento io sono 25 anni che ogni giorno mi curo mattina e sera e passiamo praticamente noi malattie di fibrocistica la metà della nostra esistenza a curarci ecco ma nel giorno in cui è arrivata quella diagnosi i tuoi genitori hanno avuto una notizia ancora più tremenda che è quella di un'aspettativa di vita all'epoca da molto breve, 25 anni, 20 anni circa si all'epoca i bambini con fibrocistica non raggiungevano l'età adulta e infatti tutta, diciamo la mia infante è stata piena di spensieratezza a livello personale per come ho affrontato io le cose ma in realtà non mi è mai stata nascosta la malattia che avevo anche se non mi è mai stata fatta pesare quindi dietro a tanti no che hanno contraddistinto la mia umanità in realtà poi c'erano sempre grazie alla loro curatura diciamo c'erano sempre delle seconde chance dicendo no magari non andare al cinema che è comunque un ricettacolo di batteri comunque potenti prendere delle infezioni quindi andiamo in montagna a sciare una vita limitata con un'aspettativa così bassa immagino che non sia facile combinerci anche se per fortuna poi la medicina, la ricerca, fa tutto il corso quindi questa aspettativa di vita si è allungata, tu adesso hai? io ho 25 anni e sono considerata una donna di mezza età perché l'età media di vita ad oggi è circa di 40 anni ma è un'esistenza comunque scadita dalle cure ma come si viene con l'idea che la tua vita possa finire prima di incautare un sole? si cerca di non pensarci e quindi cerchiamo di provare a realizzare tutti i sogni che si può sicuramente la mia vita prima di tutto insieme alla sveglia ci sono le terapie quindi la fisioterapia respiratoria i miei genitori mi hanno sempre detto fai tutto quello che riesci a fare però come prima cosa quando ti svegli il mattino fai le terapie quindi prima il dovere e poi il piacere io credo che i tuoi genitori nella tua vita siano stati fondamentali allora è una sorpresa per te perché il nostro André in Celsoni ti ha incontrato è stato molto difficile all'inizio perché grazie al cielo Rachele è stata diagnosticata a buonizi più o meno è iniziato subito le terapie per noi è stato un impatto importante ha avuto un'infanzia comunque felice e comunque noi abbiamo sempre cercato di fare le cose normali per l'attività la passione del motore è arrivata in una tarda età di la verità perché io sono un appassionato dall'inizio tentavo ma è vero che la prima macchina a batteria già quando avevo un anno quindi nella realtà comparata appena fatto la partenza di 18 anni abbiamo avuto l'occasione di fare una gara a Monza che era abbastanza importante, era una gara storica con macchine storiche e da lì non è riuscita dalla macchina che bello forse lo vedeva come una vicendina inarrivabile per lei perché Rachele è molto docente della sua malattia ha voluto tentare con orgoglio proprio di vedere quanto il suo fisico poteva reggere io penso che proprio questo suo carattere solare sempre positivo l'abbia veramente tanto aiutata perché quando la intervista dice se mia mamma avrebbe tanto voluto che io facessi il patinaggio io chissà 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 infatti io mi raccomando che vado bene ai debutanti di durare la nuova strada vado bene ai debutanti non è un buon ricordo no è solo alla fine una cosa positiva perché abbiamo sensibilizzato tantissimo e tanta visibilità però ovviamente diciamo che la mia strada sapevo già che era un'altra quindi ho un po' faticato ma mi sono divertita comunque quindi insomma la proporzione per le macchine è stata un po' una sfida anche con te stessa anche sul casco c'è una frase, just break, che vuol dire? just break? che vuol dire che in prezzo delle strade delle strade ma che cosa vuol dire per te che significa qua? ma è un motto, è un motto di vita che vuol dire respira e sono tante le volte in cui magari vorresti fare tante cose e c'è proprio la malattia che te lo impedisce e invece tante altre volte che ti concentri e respiri come quando si accende il semaforo di una prova speciale che lì è il tuo momento, devi dare il meglio che hai la malattia scompare, sei solo tu e la tua passione quindi per me già solo essere ai nastri di partenza è sempre una grande vittoria quindi per me è un sogno che si è realizzato un sogno che si realizza ma ecco tu conoscerai ovviamente persone che hanno la stessa patologia e il tuo esempio può dare la carica, dare la carica a persone che non tutte hanno la voglia o il coraggio di affrontare la vita come la affronti tu sì io cerco di proprio parlarne sia per dare la forza a chi magari non affronta la malattia o non ha avuto la possibilità di affrontare la malattia come l'ho fatto io perché ha una situazione un po' più grave e quindi deve pensare semplicemente a curarsi e stare il meglio possibile io che ho avuto invece una realtà è solo fortuna perché un po' di genetica è un po' di fortuna un po' diversa dagli altri dei coetanei che magari a 25 anni sono in attesa e dovuta perdere i polmoni io cerco sia di raccogliere fondi per la ricerca che ci dà una speranza di guarigione o comunque di farci avere una vita più vicina alla normalità e soprattutto cerco di sensibilizzare perché una persona su 25 è portatore sano e non lo sa perché non ha sintomi ma può generare un filo malato quindi se uno è consapevole magari può evitare proprio di arrivare ai miei genitori esatto, è vero che le persone con la stessa patologia quindi con la psicistica non possono essere a contatto quindi tanto devono avere una distanza di almeno due metri oppure tu sei riuscita a stabilire un contatto molto profondo con una ragazza che purtroppo non ce l'ha fatta e questa coppa tu hai voluto dedicarla a lei, lo vogliamo ricordare? si, Angelica è stata una delle persone che mi ha più dato la porta soprattutto nei momenti dove avevo più bisogno quindi a volte soprattutto l'anno scorso che era il periodo dove eravamo ricoverate entrambe in due stanze ovviamente molto distanti proprio perché tra di noi non si può stare a contatto per non scambiarci dei batteri pericolosi che danneggiano i nostri polmoni e lei ha avuto comunque, nonostante lei avesse più bisogno di me, ha sempre dato tutto al prossimo e in particolare che mi hanno preso a cuore, mi seguono anche se credono che io sia basta a fare uno sport simile e mi ha dato la forza di andare avanti anche quando lei aveva più bisogno probabilmente di essere incoraggiata davanti a un trappianto di polmonare allora grazie Rachele Tumaschini, adesso tocco a te e dare coraggio alle persone che hanno la tua stessa malattia e magari non sono così coraggiose come te, grazie per la tua testimonianza grazie a tutti